Eccola la certificazione dell'Università di Firenze, in particolare del Dipartimento di Chimica, per le mascherine gratuite distribuite dalla Regione Toscana. Le foto delle certificazioni sono state postate su Facebook dal Vice Presidente della Regione Toscana, Lucia De Robertis, dopo la notizia di alcuni farmacisti, anche a retini, che si sono rifiutati di distribuirle alla popolazione, il motivo la mancanza di marchiocee. Nella certificazione è spiegata la modalità con cui le mascherine sono state testate per evitare il contagio da Covid-19 per chi le indossa. Come la mascherina di riferimento sia appunto la mascherina chirurgica, la prova, leggiamo, consiste nella generazione di un aerosol liquido e nella determinazione della distribuzione dimensionale dell'aerosol con e senza l'applicazione della mascherina filtrante alla bocchetta di uscita del generatore di aerosol. I dati mostrano che per entrambi i tipi di mascherina si ha un'elevatissima efficienza di filtrazione e che, come atteso, tale efficienza aumenta all'aumentare della classe dimensionale. Anche per le classi micrometriche e submicrometriche, l'efficienza di filtrazione è molto elevata, oltre il 95%. I due tipi, leggiamo testualmente dalla certificazione di mascherina, presentano efficienze equivalenti nella direzione di flusso interno-esterno. Al contrario, nella direzione di flusso esterno-interno, la mascherina da verificare, quella della regione toscana, risulta lievemente più efficiente, ma la differenza è statisticamente non significativa rispetto alla mascherina di riferimento, cioè quella chirurgica.